Inviate, vedi, no? Nostalgia F sadly forever I imagine the virus Nosarcha re Adom France Apply Headphones Then I guess So again And then you I себя Do not forget You Per me è un uomo che lui è un uomo, che lui è importante, che lui è un muore, come la tua vita, come la mia un'ostalgia. Il netto era più difficile, perché è solo il mio buono, che lui è un po' più difficile, come la tua vita, come la tua vita. Niente che ha iniziavato mai sui E non abbiamo capito mai Un testo di me sognuno non è finito Non ciò che mi studiava Non ciò che sai Ma sentì molto più Iniziamo Noi 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 Grazie a te, grazie a te. Grazie a tutti